Ehi, ottimo atterraggio, Carla! Oh-oh, è meglio che tu vada a casa per vedere che cosa è successo! Gary stava trasportando dei tronchi per costruire un osservatorio! Sembra che Gary abbia perso i suoi tronchi! Non è una bella situazione! E ora, oltretutto, i tronchi stanno bloccando le auto! Cosa puoi fare, Carla? Ehi, ottimo! Grazie! 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 Ehi, pensi di riuscire a muovere quei tronchi? Oh, sono bloccati da un po' di colla! Hai qualche idea, Super Camion? Una trasformazione, eh? È una meravigliosa idea! Un bulldozer! E ora sì che puoi sbarazzarti di quei tronchi! Wow, fantastico! Super Camion, penso che tu debba buttarli nel cestino di Gary! Eh, aspetta, aspetta! Marley, hai un'idea! Marley, tu puoi resistere anche a un grosso urto, non è vero? È giustissimo, è meglio portare questi tronchi al parco! Oh, Gary, va tutto bene! Oh, no! I tronchi sono fuori usciti dal contenitore di Gary! Ehi, piccolo, ma è tutto ok! Ah, non preoccuparti, piccolo! Super Camion può tirarti fuori! E ora non muoverti, Super Camion userà il suo raggio speciale! Oh, finalmente, piccolo! Ehi, aspetta! Non vuoi vedere il punto di osservazione che Ben sta costruendo? Wow! Avremmo dovuto saperlo, che Marley resiste a grossi urti! Wow, ma ha un aspetto magnifico, ragazzi! È per Natale! Avete ragione, manca qualcosa! Ma che cosa? Ma certo, le luci sono spente! Ok, Walter, sarai tu ad accenderle! Siete pronti, ragazzi? Contate con me! Tre, due, uno... Oh, non sta funzionando! Mmm, mi domando perché! Pensate che Babbo Natale non troverà il vostro albero se le luci sono spente! E ciò significa che non riuscirà a consegnare i vostri regali! Dobbiamo fare qualcosa e velocemente! Il Super Camion, ma è una grande idea! Ehi, Carla! Cosa stai cercando? Babbo Natale? Ma non sarà in giro fino a stanotte! Ai piccoli serve il tuo aiuto in piazza! Le luci non stanno funzionando e loro hanno paura che Babbo Natale non riesca a trovare l'albero e quindi non consegni i regali! Esatto, una vera emergenza di Natale! Dai, andiamo a risolverla! Ho ho ho! Ho ho ho! Oh lo so è bellissimo ma le luci non stanno funzionando riesci a scoprirne la ragione riesci a vedere qualcosa di sbagliato una trasformazione bello ma in cosa un elicottero fantastico sarà in grado di risolvere il problema da lassù il problema di risolvere il problema di risolvere il problema di risolvere il problema meraviglioso la non c'è niente di strano questa è un'ottima idea seguiamo le luci è vero sono tutte ingarbugliate questo potrebbe essere il problema gary riesci a districare quelle luci gary ma come è successo grazie walter sono sicuro che puoi darci una mano ottimo lavoro walter però le luci continuano a non funzionare meglio dare un'altra occhiata gary ma le luci sono tutte collegate tra di loro oh pensi che sia il generatore va bene ecco un problema per te da risolvere coraggio gary riesci a connetterlo mi ero dimenticato di quanto sei goffo gary e ora puoi provare dall'altra parte ok oh no ma quella era l'energia di tutta la città carla è meglio che tu faccia qualcosa l'ST3000 non vedo l'ora un raggio telecinetico ma è meraviglioso ehi e sembra proprio stia funzionando super camion penso proprio tu debba rivedere il tuo obiettivo oh vuoi un conto alla rovescia ok tre due uno bel lavoro carla fantastico avete fatto uno splendido lavoro di decorazione a babbo natale quest'albero non spuggirà sicuramente oh mi sembra di sentire la slitta di babbo natale spero che quest'anno siate stati tutti buoni